Annetto Tataranni, poi libera lui il tiro, la conclusione, la grande spinta di Mattia Verona, ancora Torner per Mendezca, un po' di spazio, va dalle parti di Grimald che era anche coperto, Danna il contropiede qua gestito male da Romeo Danna e riparte allora Ilan Vercelli in Zucchetti in maniero per Tataranni che fa tutto bene, meno la conclusione, strano Sette minuti nel corso del primo tempo, Tataranni dentro per maniero e il vantaggio del Vercelli, Danna qua non controlla il passaggio di Mendez, riparte Tataranni, 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 si fa tutta la pista, va via d'Alberto Greco e poi la mette sotto la traversa Spaccatura stretta, fisica e tosta dell'84, adesso la palla dentro di Jordi Mendez per il gol di Romeo Danna a 7.14 dal riposo, occhio però subito Brusa che stampa una traversa Zucchetti Carica ancora il tiro, traversa piena Per andare al tiro per i padroni di casa, Greco prova ad accelerare lui, Greco, Verona, ancora molto bene sopra la traversa Un po' fa, un po' troppa fretta qua Mendez, bene su Tataranni, Greco, potenziale 3 contro 2, Mendez, Mendez, Verona Trissino a Valanga sul Montebello, 8 a 0 addirittura per la capolista nel primo tempo Seguiamo subito Greco, ci mette 5 secondi, fa tutto da solo e va in porta Alberto Greco Prende Mendez, riparte il 66, sta tagliando Barbieri, lo vede Mendez, la pallina resta lì, palla larga 3 contro 2 del Vercelli, sfruttato male perché Mendez lo chiude bene, Mendez, ma poi Tataranni Altra giocata difensiva e non è la prima e poi conclusione sul primo palo che respinge Grimald Zucchetti, Brusa, Mojano, Mojano, Porchera l'aspetta lì sul primo palo, riparte Mendez, è 1 contro 3, è 1 contro 3, è 1 contro 3 È 1 contro 3 e riesce ad andare a prendersi il blu di Zucchetti che aggancia Jordi Mendez L'ok di Righetti, Mendez, sono 100 volte Jordi gol Col Manone, Tataranni dall'altra parte, Antonioni pulito, 3 contro 2 Lodi, Mendez, Antonioni, 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 palla che arriva sulla riga Dopo l'intervento di Verona, occhio al Vercelli con Brusa, che la mette larga, mamma mia che partita adesso Tataranni per Brusa sul secondo palo, il 3 a 3 Mattia Verona, Greco, Greco accelera, Greco, Verona, poi Barbieri non esce a controllare, la riprende però Torner Per Greco, Greco, palo clamoroso, in verticale per Mendez, Greco, 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 si allarga tutto ma Verona capisce l'intenzione Il Vercelli continua a tenerla, il pubblico vorrebbe, palla a Lodi, Greco, 12, poi l'ultima azione, potrebbe essere l'ultima azione Torner, Torner addosso a Tataranni che la tiene, poi la riprende Danna però, 5 secondi alla fine Torner, 3 secondi, Danna Verona, un miracolo, poi mischione clamoroso Perché si riprenderà con l'ingaggio tra Zucchetti e Torner, la pallina adesso ancora del Lodi Ma ovviamente suona la sirena e non c'è più tempo, finisce qua, un bellissimo Lodi Vercelli finisce 3 a 3 con il Lodi che è stato sotto di 2 Ma alla fine ha rischiato ancora di